domenica pomeriggio con l'ambrogia con il nipotino putativo figlio dell'ambrogia e con l'orso che sarebbe mio marito indovinate dove andiamo lo vedete dopo durante il video perché guarda tutto il video come servono le visualizzazioni no silenzio che se no la signora in blu ci sembra un affanculo ci facevo le macumbe che venisse il sole ne potevo più andro che le macumbe la danza del sole da 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 dunque a me queste gallerie continuano a dare l'impressione del film della morte dell'amore che quando escono dalla galleria non c'è più niente c'è il nulla quasi che comunque voglio dire il della morte dell'amore c'è ruppere vere parliamone vabbè ma tu non fai testo l'altra sera sponsorizzava i orienti aperti ho capito stava qui a castremondo non è che c'è piuttosto l'amico mio masini sabato altro no si magari il 22 e ancora il lungo e si ehi a faccio un mese e mezzo si se vai si quando stai allo stadio cioè masini alfa e quando lo fa pagare vignetto se sei informata no non c'è scritto un cazzo a ieri sera perché avevo rietta verti tra le 20 e le 25 euro anche se mi piacerebbe a 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